Si terranno nel pomeriggio alle 15.30 nella cattedrale di Caltanissetta i funerali di Marcello Tortorici, l'uomo di 51 anni ucciso nel capoluogo Nisseno la scorsa settimana in via San Domenico. Dopo l'autopsia disposta dalla procura, la salma è stata consegnata ai familiari per la celebrazione delle sequie. Per la morte di Tortorici è indagato Kevin Fiore, 20 anni, che avrebbe colpito l'uomo con una coltellata fatale alla gola. Per la stessa rissa sono indagati anche Salvatore e Michele Fiore, padre e fratello di Kevin di 53-30 anni, Massimo Tortorici, fratello della vittima di 45 anni e Roberto Millacci di 50 anni. Sono stati i carabinieri di Caltanissetta, grazie alle indagini tempestive, a identificare subito i protagonisti della rissa che si è verificata la scorsa settimana nel centro storico del capoluogo Nisseno, culminata poi tragicamente con la morte di Marcello Tortorici.